Sergio Iorio, sono state due settimane intense, bellissime, l'atto finale, direi la ciliegina sulla torta, una finale di altissimo livello, la prima edizione dell'Open Celle Ligure Italmatch è già un successo. Sicuramente sono state settimane di grandissima soddisfazione perché abbiamo visto non solo del Grand Tennis ma anche dei bellissimi ragazzi, giovani, veramente molto belli, disponibili. Abbiamo visto una settimana di grande tennis che non si era mai visto da queste parti e soprattutto con una cornice di pubblico del tutto in attesa, quindi grande successo, siamo molto contenti. Molto bella la sinergia che si è creata, la squadra con i ragazzi Lorenzo, Francesco, Vesalici del Tennis Club, la tua passione, il supporto di Italmatch, la partecipazione del Panathlon e di tanti amici, insomma si è creato veramente un bel gruppo. Assolutamente, è veramente un bel gruppo, è stato bellissimo coniugare sport ad altissimo livello con il sociale e speriamo con questo di aver contribuito nel nostro piccolo appunto a rendere anche i ragazzi del BIC che sono venuti qua. È stato un bellissimo momento, molto emozionante, hanno giocato a tennis con i protagonisti, è stato veramente molto bello, tutto molto bello. Epilogo in 2-7, una partita equilibrata, importante, come giudichi queste due settimane, questo torneo che hai vinto? Mi ritengo più che soddisfatto, sono partitore quarti, ho vinto tutte le partite in 2-7, comunque lottate però esprimendo un buon tennis con giocatori anche di classifica alta, di seconda categoria, quindi sono contento. Io mi sono trovato benissimo, penso anche gli altri giocatori, ci hanno trattato veramente bene, ci hanno quasi viziato via, quindi ci tornerò sicuramente il prossimo anno, visto che è andata anche bene, quindi di buon aspicio e niente, li ringrazio tutti, il direttore, i sponsor ovviamente e alla prossima. È finita con una grande finale, una bellissima partecipazione di pubblico, un ottimo livello, insomma lo sognavate così il primo Open Celle di Gurate al match? Beh diciamo che ci aspettavamo un torneo incredibile ma fin dai primi momenti ci siamo accorti che il livello era veramente altissimo, siamo rimasti sorpresi perché abbiamo ricevuto un sacco di giocatori veramente forti, tutta gente molto tranquilla, molto umile eppure in campo dei leoni, delle partite pazzesche, incredibili. Insomma adesso ho due giorni di riposo e poi iniziamo a pensare al prossimo anno perché non vediamo l'ora di fare un'altra edizione così. Se create una grande alchimia, la presenza di uno sponsor importante come Italmatch, la passione di Sergio Iorio, la vostra capacità insomma di mettere questo gioiello di circo a disposizione di un pubblico che nelle due settimane ha sempre partecipato con entusiasmo ma anche due belle iniziative, quella con il Big Genova tramite il Panathlon e quella per la Gigi Ghirotti tramite Stelle Nello Sport, insomma l'agonismo e il cuore, l'attenzione per il sociale sono state devo dire un tutt'uno in queste due settimane. Sì 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 è stato tutto un insieme fantastico fin dai primi giorni, dalla prima festa sul molo abbiamo visto che comunque la gente è attenta allo sport ma attenta anche al sociale, all'aiutare le persone un po' meno fortunate, chi è più in difficoltà e anche la lotteria comunque ha riscosso un ottimo successo, la lotteria in favore della Gigi Ghirotti e bello, bellissimo, siamo molto molto soddisfatti di tutto questo lavoro. È stata una bellissima giornata 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 È stata una bellissima giornata